Ok, dopo un po' di tentativi mi è apparsa la notifica per la spina. Ha trovato la spina, vediamo se riesco a configurarla. Ho trovato, ma vediamo se vado nella fase intelligente e vediamo se la trova. Forse magari questa app per tablet non è... probabilmente dovrà fare il cambio e utilizzare il tablet per fare video e utilizzare il cambio e coma per... infatti vedete che non lo trova secondo me, al massimo trova i coplasti, non trova e va bene, andrà cambiare il dispositivo e dare un po' di arrangiarci.